Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Scendono sotto i 1000 il numero delle persone ricoverate nelle Marche, aumentano di 57 unità i dimessi e i guariti, stabile invece il numero dei ricoveri in terapia intensiva. 13 i decessi odierni in regione, 10 donne, 8 uomini le vittime del coronavirus, tutti con patologie pregresse. Il più giovane aveva 46 anni di Pesaro, mentre il più anziano aveva 98 anni di San Severino Marche. Il totale sale a quota 764 dall'inizio della pandemia, 7 extra regione. Il bollettino di aggiornamento ha confermato anche 5 decessi avvenuti nei giorni precedenti, per i quali è stata confermata la diagnosi. Scendono sotto quota 1.994 il numero delle persone ricoverate per coronavirus nelle Marche, mentre i guariti salgono di 57 unità a 1.660, in precedenza 1.603. Lo evidenziano i dati del gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie per le ultime 24 ore. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 106, ma scendono i leggenti in semi-intensiva, da 244 a 234. In reparti non intensivi, da 471 a 434. In area post-critica si trovano 220 persone, 222 il giorno precedente. Contestualmente crescono i positivi in isolamento domiciliare, da 5.426 a 5.503. Quelli in quarantena per aver avuto contatti con contagiati sono 7.887, 3.426 con sintomi, tra i quali 1.190 operatori sanitari. Sono ora 5.503 positivi al Covid-19. Il numero più alto di contagi in provincia di Pesaro Urbino è 2.230, seguita da Ancona 1.647, Macerata 846, Fermo 367, Ascoli Piceno 259, 154 positivi provengono da altre regioni. È morta all'età di 84 anni Fiorenza Renzi, madre del sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci. A dare la triste notizia è stato proprio il primo cittadino con un post su Facebook nel quale ha scritto Maledetto Covid-19, si è riuscito a portarti via anche mamma, nello stesso giorno in cui 17 anni fa se ne era andato anche babbo. Fiorenza, ospite della casa di riposo comunale Castellani, è deceduta all'ospedale di Urbino, dove era ricoverata da diversi giorni. Questo è il mese notoriamente in cui si sviluppano anche le allergie, allergie da pollini, varie allergie che sono causate appunto da ciò che gira nell'aria. E allora in un momento come questo è importante fare una distinzione tra i sintomi delle allergie e altri sintomi. Vediamo. L'arrivo della primavera ogni anno apre la stagione dei pollini e per chi soffre di allergie stagionali inizia un vero e proprio calvario fatto di starnuti ripetuti, naso chiuso, ocche cola e occhi lacrimanti e stossestizzosa. Quest'anno a complicare le cose c'è il coronavirus, le cui manifestazioni sintomatologiche in alcuni casi si possono confondere con l'influenza e i raffreddori comuni. Ed allora per tutti coloro che sono affetti da malattie respiratorie o allergiche è importante fare chiarezza. Lo facciamo assieme al dottor Piero Candoli, direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia di Marche Nord. Sicuramente le malattie dell'apparato respiratorio presentano sintomi che sono comuni a quelli che sono i sintomi che il coronavirus in qualche modo ci ha portato alla ribalta, quindi sintomi molto spesso a specifici, quindi una tosse, una febbre, difficoltà respiratoria, quella che viene normalmente detta disnea. Però è chiaro che chi ha una problematica di tipo allergico o asmatico in qualche modo può riuscire a differenziare a quelle che sono alcune caratteristiche peculiari, diciamo, dell'una e dell'altra forma respiratoria. Quindi intanto chi è allergico e chi è asmatico sicuramente ha una storia, ha un'anamnesi. Molto spesso ha una storia, un'anamnesi che riconduce anamnesi familiare, per esempio, il fatto di avere casi analoghi di allergia e di asma in famiglia. Questo è un elemento importantissimo, sicuramente anche la giovane età, sicuramente anche la stagionalità molto spesso dei sintomi che i nostri pazienti riescono a riconoscere abitualmente. Quindi è chiaro che ci sono anche sintomi comuni, ma anche sintomi che sono più caratteristici di una rinite, di un'asma, piuttosto che non di una sindrome influenzale tipo quella del coronavirus. La febbre può essere un discriminante? La febbre può essere un discriminante nel senso che è molto più comune la febbre in una condizione di tipo influenzale oppure in una condizione, per esempio, di infezione da coronavirus. Alcuni pazienti che soffrono di queste patologie si chiedono, ma io che sono allergico o asmatico, corro più rischi rispetto a un'altra persona comune su questo fronte? È giustificato il discorso di essere in qualche modo attenti, non dico preoccupati, ma attenti a questa possibilità. Sicuramente l'Organizzazione Mondiale della Sanità e comunque le varie associazioni, le varie linee guida che trattano di asma, di allergia, ci dicono che in teoria questo paziente può essere in qualche modo maggiormente a rischio. I pazienti che, asmatici, orinitici o allergici, molto spesso, essendo già preoccupati per la loro realtà, la loro sintomatologia, direi che sono molto più attenti e sono stati sicuramente molto più attenti a proteggersi, a evitare contatti. Questo devo dirlo con un certo beneficio di inventario, ma comunque esperienza clinica quotidiana, pazienti asmatici infettati dal coronavirus, grazie a Dio ne abbiamo visti veramente, io personalmente zero, comunque particolarmente pochi. Bene, facciamo anche una piccola parentesi sulla terapia cortisonica, molti si chiedono ma va bene, la devo continuare a fare, quali sono le istruzioni per l'uso su questo fronte? Fondamentale, allora chi è asmatico, chi ha comunque una problematica di controllo dell'asma, molto spesso i nostri pazienti vanno incontro a delle fasi di non controllo o di controllo non ottimale, assolutamente devono continuare la propria terapia broncodilattante che prevede anche l'utilizzo di steroidi inalatori, cortisonici inalatori, che sono il cardine della terapia dell'asma bronchiale. Il cortisone in corso di coronavirus, di infezione coronavirus è stato inizialmente demonizzato, poi in realtà attualmente fa parte dei vari schemi terapeutici che noi utilizziamo anche in pazienti con gravi condizioni respiratorie da coronavirus, quindi i nostri pazienti asmatici, rinitici, allergici devono continuare la propria terapia, assolutamente. Sono 25 le persone sanzionate nella giornata di ieri nella provincia di Pesaro e Urbino, 5 cittadini sono stati anche denunciati, di cui 3 per falsa dichiarazione o attestazione. Nella stessa giornata le forze dell'ordine hanno controllato 400 esercizi commerciali, ma senza contestare illeciti. Adesso andiamo a Pesaro invece, dove oggi è stata aperta la nuova struttura sanitaria di Villa Fastigi, pronta ad ospitare 30 pazienti positivi al virus, dimessi però dagli ospedali. Era diventato un caso politico, ma oggi, dopo vari rimpalli di responsabilità, a Villa Fastigi è stata aperta la nuova struttura riabilitativa sanitaria. A confermare la notizia è stato il consigliere regionale Andrea Biancani, con un posto sui social network. 30 posti sono già disponibili per accogliere pazienti risultati positivi al Covid-19, dimessi da altri ospedali e con un respiro stabilizzato da almeno 72 ore. Dopo la firma della convenzione tra pubblico e privato, nei prossimi giorni dovrà essere definito il protocollo operativo per ulteriori 80 posti letto nell'altra ala della RSA. La nostra è una struttura di tipo estensivo, di riabilitazione estensiva, autorizzata al ricovero di pazienti Covid-19 positivi in fase post-critica. Sono pazienti che sono in via di stabilizzazione, per i quali noi, oltre a seguire la parte clinica di stabilizzazione, assucuriamo un primo trattamento di tipo riabilitativo. I pazienti, precisa il direttore sanitario dell'istituto, arrivano principalmente dagli ospedali della provincia di Pesero Urbino, ma non solo. Provengono ad esempio anche dalla casa di cura Villa dei Pini di Civitanova Marche, nella quale sono state ricoverate alcune persone residenti nel Pesarese. Tenendo conto che prendiamo pazienti che in una fase post-critica, a cui dobbiamo ancora fare i tamponi per verificare l'eventuale negatività, quindi dobbiamo presumere che prima di 15-20 giorni non li potremo fare, i periodi di degenza potrebbero aggirarsi attorno al mese. Dipenderà ovviamente molto dalle condizioni di questi pazienti e dal percorso di riattivazione e quindi anche riabilitativo che devono fare, per il quale noi comunque siamo preparati. La giunta esecutiva dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, riunita in modalità online, ha avviato alcune progettualità per i servizi educativi dedicati alla prima infanzia e ai servizi bibliotecari in rete. Per quanto riguarda le biblioteche, Pian del Bruscolo attiva una pagina Facebook gestita direttamente dalle bibliotecarie e quindi considerata l'impossibilità di recarsi nelle varie sedi, si è pensato di far entrare la biblioteca nelle case degli utenti con l'iniziativa Una Storia al Giorno. Per i servizi educativi dedicati alla prima infanzia è stato creato uno spazio di ascolto e condivisione con le famiglie a distanza e oltre al contatto telefonico alcuni suggerimenti di attività come letture, canzoncine, piccole attività manuali che si possono riproporre a casa. Inoltre sono state adottate misure straordinarie per far fronte ai disagi delle famiglie, azzerando le rette dovute per il mese di marzo. E la Giunta Comunale di Pesaro ha istituito un fondo al quale tutti possono partecipare facendo delle donazioni. I soldi raccolti serviranno per aiutare le famiglie in difficoltà. SOS Pesaro, Emergenza Economica, arriva il fondo per aiutare le famiglie pesaresi in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus. È quanto annunciato dal sindaco Ricci. Si tratta di un contenitore per far esprimere ulteriormente la solidarietà pesarese nei confronti della popolazione bisognosa, attraverso donazioni che serviranno per le esigenze principali, a partire dai beni alimentari alle spese per la casa. L'obiettivo, sottolinea il primo cittadino in conferenza stampa, è di creare un fondo con una gestione rapida e autorevolezza pubblica. Contributo iniziale è stato dato dalla Giunta che ha di fatto erogato il primo versamento all'associazione. La donazione può essere effettuata attraverso la piattaforma online GoFoundMe. A partire da domani l'amministrazione ha comunicato che sarà attivo anche un conto corrente bancario. Il Comune di Pesaro, per fronteggiare l'emergenza coronavirus, ha aggiunto uno stanziamento di 63 mila euro ai fondi nazionali per i voucher e 100 mila per la distribuzione delle mascherine. Nonostante lo stanziamento di questi contributi, il Sindaco di Pesaro ha anche ribadito più volte la difficoltà che anche i comuni stanno attraversando a causa della mancanza di entrate, venute meno dalle varie tasse, tra cui quella di soggiorno, dagli introiti dei parcheggi, rette e occupazioni di suolo pubblico attualmente sospese. A questo proposito Ricci ha lanciato un appello congiunto con altri sindaci al Governo per ottenere a livello nazionale 5 miliardi nel decreto aprile per fronteggiare l'emergenza. Inoltre l'appello del Sindaco, che ha raggiunto già 500 adesioni da parte degli amministratori locali, chiede espressamente di avere più poteri per velocizzare e semplificare le pratiche e fare ripartire al più presto i cantieri. I carabinieri, i carabinieri che portano medicinali ad un anziano di 91 anni che vive solo in casa è accaduto a Civita Nova Marche. Walter Orsi, barbiere storico della città, ha contattato il 112 chiedendo ausilio ai militari. Aveva terminato i farmaci per curare l'ipertensione e ha chiesto alle forze dell'ordine di recuperare la scorta che aveva conservato nel suo laboratorio in via Gorizia. I carabinieri muniti di guanti e mascherine si sono subito attivati, hanno recapitato le medicine a casa dell'uomo che ancora si diletta a tagliare i capelli. Il 91enne ha apprezzato il gesto di solidarietà dei militari e ha colto l'occasione per compilare i moduli, anche per delegare l'arma al ritiro della pensione. La primavera non teme il coronavirus e dunque la natura fa il suo corso. Alla natura non potete dire che c'è il coronavirus. Cieli azzurri, giornate lunghe e colori vivaci cozzano inequivocabilmente con la nostra clausura forzata. Ma basta uscire per andare a fare la spesa o le poche commissioni che si possono fare per rendersi conto che la natura invece fa il suo corso. La natura non sa che invece dovrebbe aspettare che si possa tornare alla cosiddetta normalità, anche se questo è un concetto molto lontano ancora, per poterne godere dello suo spettacolo. Un esempio di questa rassicurante esplosione che invece purtroppo ci stiamo perdendo è in una delle vie del centro di Fano, forse la più rappresentativa in questo periodo, via Garibaldi, lato statale, ormai da tutti conosciuta come la via dei ciliegi per via degli esemplari di ciliegi giapponesi che la contornano. In questo periodo i colori malva e rosa si stagliano con decisione contro il bianco delle facciate dei palazzi, regalando uno spettacolo bellissimo. Gli ciliegi e le altre piante da frutto e non che in questo periodo avremmo ammirato ai bordi delle strade, nei chiampi biondi di grano, sulle verdi colline, rappresentano per il nostro morale una rassicurante certezza in questo periodo di grande precarietà che si avvolge alle nostre giornate. Affacciamoci quindi dalle finestre anche per ammirare lo spettacolo della natura che rinasce come rinasceremo anche tutti noi. Restiamo in tema di natura. Dopo il cervo in coda al supermercato, immortalato tra i carrelli con le persone in attesa di entrare a fare la spesa, ecco un'altra fotografia che fa sorridere e riflettere allo stesso tempo. Un cervo comodamente sdraiato al parco, tra l'altro è anche chiuso al pubblico, il parco in questione è quello dei passeggi a Fano. Lo scatto è di Marinella Cecchini che oltre ad essere bello ed emozionante per tutto ciò che rappresenta, la dice lunga su come la natura si stia prendendo quegli spazi che fino a poco tempo fa erano quasi ed esclusivamente dedicati e occupati dall'uomo. Aumenta la sicurezza nei sottopassi carrabili di Marotta. Nei giorni scorsi è stato installato un impianto di videosorveglianza nei sottopassi di via Togliatti e di via Foscolo che trasmette immagini H24 ai tecnici e polizia locale. In futuro verrà esteso anche al sottopasso delle rane di Marotta Nord. Inoltre sono stati installati dei sensori collegati ad un combinatore telefonico che in caso di allagamento avvisa contemporaneamente più numeri di telefono per attivare e ottenere un intervento immediato e ripristino della viabilità. Distanti ma uniti dalla musica, ormai di slogan ne stiamo sentendo ogni giorno sempre di nuovi. Per aglietare la quarantena i musicisti dell'orchestra fiati del Monte Feltro hanno deciso di suonare da casa un brano di Gioacchino Rossini. Simona Zunghetti. Suonano da casa la marcia per il sultano del celebre compositore Gioacchino Rossini. Registrando a distanza per rispettare le norme imposte e allietare la quarantena, l'orchestra fiati del Monte Feltro diretta dal maestro Davide Barbatossa ha voluto lanciare un segnale di positività e di rilancio sociale per il futuro. Un messaggio di vicinanza a chi sta vivendo una fase critica, agli operatori sanitari, a coloro che non possono abbracciare e a tutte le persone sole. Noi tra l'altro siamo un gruppo giovane, ci siamo costituiti tre anni fa e in questi momenti vogliamo dare un segnale importante perché la musica è arte e come tutti i tipi di arte viene racchiusa nella cultura e come si sa la cultura unisce. Quindi il nostro messaggio è proprio questo, insomma, di unire tutti coloro che producono un'arte, che la contemplano. E noi, ovviamente, essendo dei musicisti, cerchiamo di far arrivare delle note che facciano rinsavire un po' l'anima dei cittadini, insomma, degli ascoltatori in questi particolari momenti. Quanti musicisti hanno preso parte all'iniziativa? Allora, in questo caso 25 musicisti, però noi abbiamo un organico più allargato, ma ovviamente per motivi contingentati a questa situazione non tutti purtroppo hanno potuto partecipare, però, insomma, abbiamo sempre un organico vispo e pronto che ci ha dato risposta e siamo riusciti, diciamo, a realizzare la marcia per il sultano appunto di Giochino Rossini. Noi con questo messaggio culturale vogliamo ricordare a tutti che bisogna sempre essere uniti, perché da soli purtroppo non si va da nessuna parte e noi, sia a livello umano che a livello artistico, vogliamo dare appunto proprio questo messaggio che uniti si può vincere. Un'altra importante donazione all'ospedale Santa Croce di Fano arriva dall'Associazione Nazionale Carabinieri, la sezione di Fano. I soci e i simpatizzanti hanno raccolto la somma di 1.800 euro grazie ad una colletta volontaria e questa mattina il generale di brigata Gian Greco, il sottotenente Proce del brigadiere capo Scortechini, hanno consegnato l'assegno con l'importo nelle mani della dottoressa Luana Stefanelli, della direzione medica del presidio ospedaliero. E a bell'occhi di Fano le associazioni del quartiere hanno deciso di unirsi per aiutare i residenti della frazione alle prese con le difficoltà legate al coronavirus. Matteo Del Vecchio. Se è vero che in situazioni d'emergenza è fondamentale la capacità di fare rete, è altrettanto vero che avere nel territorio realtà in grado di spendersi per gli altri può fare la differenza. È il caso della frazione di Bellocchi dove otto associazioni locali hanno deciso di unire le forze e dare vita al progetto Bellocchi Comunità, una raccolta fondi per supportare i volontari della carita sparrocchiale che a loro volta, ormai da anni, seguono famiglie del quartiere alle prese con problematiche di tipo economico. Qualche telefonata, qualche chiamata via Skype, alcuni giorni di confronto sulle modalità ed ecco pronto il codice IBAN sul quale associazioni, aziende ma anche semplici cittadini potranno versare le somme che andranno ad aiutare quei residenti della frazione che a causa dei disagi provocati dal coronavirus hanno difficoltà a fare la spesa o magari a pagare qualche bolletta. Il Paese dei Balocchi, Amici di Bellocchi, Verde Vivo, Tra le Note, Compagnia Teatrale Il Gaf, Atletico Alma, Azione Cattolica Bellocchi e Vivamente. Queste le otto realtà che oltre ad avere in prima persona contribuito alla causa hanno deciso di sensibilizzare il quartiere perché ad aver bisogno di una mano spesso, anche se non ce ne accorgiamo, può essere il nostro vicino di casa e in questi momenti avere nel territorio persone in grado di spendersi per gli altri può veramente fare la differenza. E diverse sono le iniziative messe in atto dal Comune di Fermignano. Tra queste è stata istituita una raccolta fondi in collaborazione con Croce Rossa Italiana e Protezione Civile che hanno raccolto un importo di oltre 90 mila euro di cui 75 mila donati all'ospedale di Urbino per comprare materiale necessario a superare l'emergenza Covid-19. La consulta giovanile Next Generation ha consegnato circa 250 voucher in 48 ore per la popolazione in difficoltà. La Croce Rossa Italiana ha consegnato diverse centinaia di chilogrammi di frutta alle famiglie, mentre la Caritas 60 pacchi alimentari. Il Comune di Fermignano ha costruito anche una piattaforma che si intitola Fermignano Online, attiva da tre settimane e grazie alla collaborazione di associazioni, volontari e liberi professionisti sono stati coinvolti nella creazione di filmati per mantenere attiva la popolazione. E una bella notizia arriva invece dalla riserva naturale della Gola del Furlo, dove sono nati due pulli dalla coppia di aquile reali che si è formata nel 2017. Il nido scelto è stato quello sul Monte Paganuccio, come lo scorso anno nel 2019 si schiuse un solo uovo e nacque Cheti, una femmina osservata volare sui cieli della riserva fino a qualche settimana fa, per poi essere cacciata dai genitori all'inizio della nuova stagione riproduttiva, comportamento tipico della specie. Questa volta i piccoli sono due, come ha scoperto la Polizia Provinciale durante la consueta attività di vigilanza. E questa era l'ultima notizia in scaletta nel nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani mattina alle 7.45 con la rassegna stampa. Occhio ai giornali, arrivederci.